Io sono Candice, sono l'insegnante di Ata, Ashtanga e Vinyasa Yoga, qui presso Kodokan in particolare insegno Ata Yoga, che è una delle tante forme di yoga esistenti, ma sicuramente una delle più antiche. È conosciuto anche come Yoga della Forza e prevede una serie di esercizi fisici, asana, una serie di esercizi di respirazione, pranayama, oltre a tecniche di rilassamento e di meditazione. Quella che io propongo in particolare è una pratica generale di yoga con posizioni di base, che comprendono un lavoro completo ed equilibrato della colonna vertebrale, dei muscoli, delle articolazioni, stimolando anche tantissimo le nostre iandole e lavorando anche un po' più in profondità, a livello un po' più sottile, quindi stimolando anche i nostri centri di energia. L'Ata Yoga, se viene praticato costantemente, risveglia realmente la nostra mente, la rende più chiara, più lucida, ci dona tanta pace e tanta serenità. Quello che io dico sempre è di praticare con calma, con gratitudine e gioia. Namastè Shanti, shanti, shanti Grazie a tutti Grazie a tutti